Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, aia, 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 aia. Negli ultimi tempi Fedet sembra aver messo al centro della sua vita pubblica strategie che puntano a mantenere alta l'attenzione su di sé e a sfruttare ogni occasione per fare parlare di sé. Dopo il recente dissing con Tony F, il rapper è stato visto giocare consigli in un video, un gesto che può sembrare una pausa leggera dalle polemiche, ma che appare comunque parte di una strategia ben più complessa. Non è la prima volta che Fedez viene accusato di usare la propria vita privata per guadagnare visibilità e i soldi. In passato i figli, in particolare Leone, apparivano spesso sui suoi social, ma dopo la separazione da Chiara Ferragni, questo ha cessato, probabilmente per un accordo tra i due. Al posto dei figli, Fedez ha iniziato a pubblicare contenuti legati al suo cane, che è diventato parte di numerose gag e momenti divertenti sui social. Tuttavia, sembra che non si fermi mai, dopo il cane e i litigi con i colleghi, il rapper continua a rimanere una figura controversa. Se da un lato si può ammirare la capacità di sfruttare ogni occasione per trasformarla in profitto, dall'altro molti lo accusano di aver perso di vista il suo ruolo di padre e di uomo di famiglia.